Salve. Dopo un periodo di assenza torno. Per aggiornarvi sulle nuove serie. Che nei prossimi giorni. Vedrete sul mio canale. Tanto per cominciare inizierò una serie con un gioco in accesso anticipato. Amountry. Un gioco survival che riprende le tematiche di Long Dark. Poi inizierò una serie di retro gaming, con svariati titoli. Che si sommeranno. Alle altre serie. Sto cercando di rendere il repertorio del mio canale sempre più variegato, nei limiti delle mie possibilità fisiche. Ed economiche. Quindi spero che continuerete a seguirmi. Lasciate dei like che. Vi iscriviate. Per cui. Adesso vi saluto. E ci sentiamo alle prossime novità. Ciao ciao.